Io sono Luca Montanari del Corriere di Teleromani, ci siamo salutati prima, ti chiedo che effetto farà più che affatto, perché sono stati due minuti, curiosamente, proprio con il Modena, però è un contesto particolare, debutare in C a 35 anni e dal giocatore, non dico simbolo, perché quello tu dovrai guadagnare, ma dal giocatore più esperto, senza dubbio. Ma è sortito in uno stadio che non è da C, una partita che sicuramente, visto le due squadre, non è da C, quindi come primo impatto è stato positivo, perché comunque abbiamo affrontato una squadra maschuna forte, noi siamo una squadra competitiva, abbiamo dimostrato di poterci giocare, è una nuova esperienza, sicuramente una esperienza, che non si smette mai di migliorare, di crescere, quindi anche questo lo servirà.